un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele allora questo come vi avevo anticipato è un video che non vuole assolutamente mettere preoccupazione a chi ne ha già fin troppa lui sa a chi mi riferisco Stefano stai tranquillo un amico un mio iscritto allora come mi ha scritto Ivan e poi anche Luca vi sarete accorti anche voi che c'è una differenza guardate queste sono chiuse tutte e due non so se notate la differenza di questa che è molto più lunga rispetto a dove cade questa qui e poi qui abbiamo stiamo parlando di pezzi avvitati nelle giuste sedi che ci hanno detto loro eh aspettate ragazzi ok stiamo parlando vedete le vidi sono messe non è stata fatta alcuna modifica se però vedete qui abbiamo uno spazio molto più grande non so se si nota rispetto a qua allora questo va un po meglio non proprio bene bene ma va un po meglio scusate ma anche questo è più lungo se notate poco più lungo ma anche questo è più lungo qui lo spazio più o meno un po più largo qua di qua ma meno dell'altro allora con questo cosa voglio dire voglio dire semplicemente innanzitutto di non preoccuparvi perché è un mal comune si dice mal comune mezzo gaudio quindi ecco non è che soltanto il vostro pezzo può essere difettato e adesso non ho il terzo perché dall'edicola me ne hanno dato soltanto uno se non avevo anche il terzo sapete che ne sto facendo tre io cosa voglio dire con questo di non preoccuparvi perché perché qualora ci fosse da intervenire lo vedremo successivamente ma lo vedremo soltanto una volta messo il pezzo dietro la schiena quindi avendo poi tirato giù le alette per vedere come funziona come combacia e avendo messo anche il pezzo qua davanti tutto chiuso quindi non abbiate fretta perché tanto si può intervenire anche dopo perché per smontare poi questo basta levare lo schienale ragazzi quindi è inutile fare modifiche adesso per andarle a fare perfettamente in linea quando poi montando l'armatura non serviva perché può darsi che combaci così come seppur qua può sembrare storto perché un po storto lo è però può darsi che poi in realtà combaci benissimo quindi ragazzi non mettiamo mano a nessuna modifica il consiglio che vi do io adesso ho voluto solo farlo per darvi tranquillità perché magari alla fine tutto questo andrà bene vedete guardate guardate lo spazio che c'è qui come anche Iva mi faceva notare vedete che qui ci passa addirittura il calciavite si incastra e qui no eppure abbiamo usato la stessa parte comunque alla fine che cosa si dovrà fare qualora ripeto non è sicuro qualora si rendesse necessario anche se guardando sono iscritto in tanti gruppi in Europa e vi dico che i nostri amici seppur non italiani che sono molto più avanti di noi tipo i francesi mi sembra che sono arrivati già oltre il 90 al noventesimo numero perché loro ricevono sei numeri invece di noi che ne dicevamo quattro ma lasciamo perdere quel discorso perché siamo noi italiani che ci lamentiamo che spendiamo troppo e ovviamente la di Agostini ce ne fa arrivare di meno perché è così chiaramente non tutti siamo così ma quello che è stato lo studio li ha portati a darcene quattro invece che sei allora tornando a noi cosa si dovrà fare lo vedremo dopo comunque si potrà o svitare questa vite e mettere una piccola rondella sotto se sarà da allontanare in su oppure tagliare un po questa plastica sotto la vite leggermente metterci una rondellina e avvitare semplicemente questo ma non vi fasciate la testa adesso ragazzi non mi riempite di commenti perché può darsi che non ci sarà alcun bisogno io ve l'ho soltanto detto perché ovviamente c'è questa asimmetria che non avrebbe forse dovuto esserci però vedete anche qua sullo stesso questo è un altro qua è un po di meno ma anche qui c'è la vedete e vedete il segmento qui e qui non lo vedete ok allora quindi state tranquilli si risolve tutto ragazzi ricordatevelo montate questa splendida armatura perché è veramente bella comunque vedete già qua guardate lo spazio qui non passa il cacciavite la punta lo stesso cacciavite qui guardate passa tutto però ripeto guardate cosa si fa basterà smontare questa se fosse necessario ok ragazzi non mi andate nel panico eh guardate basterà fare così spostare questa vedete lei si avvicina non collima più non combacia più ovviamente come abbiamo detto all'inizio il foro sotto ma non è un problema basterà tagliare un po questa luce dove ci va la vite mettere una rondellina qui e avvitare finito ok ragazzi però non fate niente adesso e mi raccomando come non faccio niente nemmeno io montiamo tutto e poi vediamo come va poi alla fine come vi ho detto visto che nessuno nei gruppi stranieri si è lamentato perché pubblico anche nei loro gruppi e vi dico che non ho visto la benché minima argomentazione in merito ok ragazzi va bene con questo Michele vi saluta vi da appuntamento al prossimo video ho voluto soltanto rassicurarvi su questo vedete che qui è quasi a filo come in realtà si fa anche presentare nel fascicolo delle istruzioni e qui invece il dentino va oltre la riga però ripeto tutte cose che si possono risolvere qualora si rendesse necessario ok ragazzi va bene Michele con questi due meravigliosi busti vi saluta no non li posso appoggiare al contrario perché rischio di rompere rischio di rompere come faccio a tenere non ce la faccio devo spegnere il filmato rischio di rompere il perno dietro e non ci penso proprio Michele vi saluta vi da appuntamento al prossimo video dovrebbe arrivarmi il pacco della for gran torino di starschiaci se siete interessati mi raccomando ragazzi iscrivetevi attivate la campanella da rimanere così sempre aggiornati su ogni mio nuovo video quanto prima non appena avrò corretto il testo in italiano andrò a mettere alle 25 lingue straniere così che ogni persona oltre a vedere le immagini possa anche comprenderne i contenuti verbali aspetto anche l'arrivo della citronen due cavalli charleston la leggendaria e aspetto le prime tre uscite del grande mazinga z michele vi saluta ragazzi appoggiamolo così così non tocca dietro ecco qui insomma non è una delle peggiori immagini con il quale ho chiuso i video ragazzi Michele vi saluta vi ringrazia di seguirmi mi raccomando supportatemi sempre e sopportatemi anche e mi raccomando ragazzi e se avete qualcuno interessato condividete e chiedetele se interessate iscriversi perché Michele cerca di aiutare dove può le persone che sono un po più in difficoltà ciao ragazzi un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari vi auguro una serena serata ciao al prossimo video